Oggi giocheremo contro l'Ipsia e, oltre alla vittoria, la Juventus terrà d'occhio anche un giocatore del club tedesco. Nonostante il centro difensivo non abbia mostrato grandi problemi, la Juventus cerca di rafforzare la difesa e ha incluso il nome inedito di Castello Luqueba. La Juventus ha già alcune informazioni su Castello Luqueba, che è francese e ha 21 anni. Infatti, Giuntoli osservava Luqueba già prima di arrivare alla Juventus Luqueba e Mancino e sarà uno dei principali obiettivi di mercato della Juve. Penso che non sarà facile, perché ci sono altri interessati come il Real Madrid e il Chelsea. Il prezzo è piuttosto elevato, quindi non credo che riusciremo a prenderlo.